Ciao a tutti, Dreamlike, buon video e benvenuto al nuovo episodio dell'erede di Foninfesta. La volta scorsa abbiamo visto questo elemento qua, che adesso ha una faccia veramente da prendere a schiaffi, trattare male la nostra amata Cassandra, perché è geloso. Perché Cassandra, come voi già avevate un po' intuito, per lui è una sua proprietà in quanto sua moglie. E quindi è geloso, non dal punto di vista romantico, sentimentale, ma proprio è geloso di lei come suo oggetto. E lui ha capito bene che Cassandra ha una relazione, ma deve capire con chi. Sì, deve capire se questa sua sensazione è fondata o meno e quindi adesso sta parlando con Alexander. Alexander, per cui il suo cognato, col quale ha stranamente una buona relazione. Diciamo che da quando è entrato in casa, con Alexander è sempre andato d'accordo. Però guardate la barra di relazione con Cassandra, l'amicizia è andata sotto. La barra sentimentale no, stranamente, ma l'amicizia proprio basta, non c'è più. Non che siano mai stati veri amici, però adesso proprio non si capiscono, quindi amici proprio zero. E quindi adesso sta cercando di parlare appunto con Alexander, lo ha, diciamo, inchiodato davanti alla tv per non farlo scappare, in modo che, in modo di cercare di carpire qualche informazione. Guardatelo, vi ricordo che Malcolm lavora nei servizi segreti come agente segreto, ma in realtà fa parte di un'organizzazione malavitosa, non di un vero, dei veri servizi segreti. E quindi sa come reperire informazioni, sa come muoversi in questo campo, anche la psicologia è da utilizzare con le persone, e quindi sta cercando di carpire un po' di informazioni da Alex. Ma quindi tu come l'avevi dito a sorella? Ma guarda, è impegnata a fare soldi, mi sembra che stia lavorando bene, no? Non perde tempo a prendere le mosche. Perché piangi? E lui pensa, ma adesso cos'ha questo cretino? Eh, me lo chiedo anch'io. Ma esce con gli amici? Cioè, ho capito, si paga le bollette, ma esce con amici che tu sappia, perché sta sempre al lavoro fino a tardi. Non so, non credo che lei sia tipo da andare a guardare le partite, no? Mi sembrerebbe un po' una bidonata da parte sua. Ma no, secondo me sei in mezzo alla gente per scrivere articoli, interviste. Fa parte del suo lavoro. E lui pensa, questa conversazione mi sta facendo annoiare. Non riesco a tirar fuori un buco dal ragno. Il mio cuore è spezzato in questo momento. Sì, certo, il tuo cuore. Raggiunto livello 7 di pittura per Cassandra. Brava. Festival distrarsi e disastri. No, non siamo con Ginko, per cui non ci interessa. E livello 6 di forma fisica per Martina. Martina, che cappio stai facendo? Ah, va bene. Comunque c'è qua anche Alessandro, in teoria. Se non se ne è già andato. Ah no, sta scivolando con Alessandro, va bene. Ehm, quindi sì. Malcolm sta cercando di utilizzare suo cognato per cercare di capire se Cassandra può avere una relazione extra coniugale. Non che Alex glielo direbbe, chiaramente. Il mio vicino giura che al festival distrarsi e disastri il cibo è buono da morire. Vogliamo vedere se hai ragione? No, tesoro. No, perché oggi Cassandra aveva altri programmi. A parte, vabbè, sta lavorando da casa. Puoi anche lasciare stare questa cosa. Perché lei è da un po' che non va a fare beneficenza. E ha deciso che vuole riprendere con sua madre. Dov'è? E quindi, sì, Martina stava aspettando un po' che... Dai Martina, ti prego, non hai più l'età per fare certe cose. Che Cassandra finisse di lavorare. Non andare in lutto per nessuno. Per favore, vieni qua. Quindi, tesoro, dai, sei pronta? Io mi sto un po' rompendo le ossa con quello scivolo. E sì, lo stiamo vedendo tutti. Disastro bazzia? Va bene. Sì, mamma, io ho quasi finito il mio murales. Vogliamo andare? No. Andare sì, va bene. Non mi ricordo mai dove... Fai volontariato. Farà volontariato proprio con tutti... Vabbè, no, tutti no. Malcolm può affigurarsi. Tutti no, però con i suoi genitori sì. Alex, vabbè, anche con Alex, dai. Facciamo volontariato anche con Alex. Facciamo volontariato a una mensa dei poveri, anche l'ora giusta per andare a cominciare a preparare cibo in cucina, diciamo. Per cui dai, mamma, andiamo. Sennò faremo tardi per cominciare a cucinare. Non facciamo aspettare i cuochi. Mamma mia, che schifezzo che c'è qua. Che schifezzo. Ops, lui se la sta facendo addosso. Vabbè. Oh, Nancy. Cara Nancy. Però adesso non abbiamo tempo per te. Sinceramente. Invita a entrare. Oh, mamma, sei arrivata. Facciamo finta che lui l'abbia chiamata. Per fortuna che sei arrivata. Sai, io devo uscire un attimo. Ho un po' di cose da sbrigare. Perché non ti occupi tu di... Di Achille? Dalle anche un abbraccio. Cos'è che sei architettando, figliolo? Chiede Nancy. Ma niente, sai lavoro. Sai com'è. E quindi, vabbè, Achille lo lasciamo dormire. Va bene, non preoccuparti. Mi occuperò di tutto, tranne che dell'immondizia. Sì, perché qua c'è lo schifo più totale. Io non so come fanno a ridursi sempre così. Vabbè, mangia l'hamburger. Finisci sto hamburger, per favore. Prima che vada male. Grazie. E poi... Mentre la famiglia è in giro, lui ha intenzione di fare un po' di ricerche e cercare di sbrogliare questo nodo. Basta, già finito? Tu che lavi i piatti. Ma quando mai sei visto? Togliamo sto schifo. C'è qua anche zio Alessandro a prendersi cura di Alex. O a svuotare il frigo, vedete un po' voi. Fate i vobbis. Lui invece andrà a utilizzare gli strumenti in suo possesso per... Database privo di soggetti di ricerca. Hmm. Niente. Ricerca. No, curiosa fra le opere d'arte, no. Socializza. Chattacon. Diciamo che lui ha trovato su Simbook. Chattacon. Michelle. Sta cercando su Simbook i contatti. Scusa, sei ancora qua? Ma vai! Vai alla mensa dei poveri! Ma guardate un po' voi sto Sim. Vai alla mensa dei poveri. Dicevo. Sta cercando su Simbook i contatti di Cassandra. E ha scoperto che ha una sola vera amica della quale però non gli ha mai parlato tale Elsa Bjergsen che però non ha mai visto che frequenta la casa e la famiglia. Diciamo che è un po' come se si fossero perse di vista durante l'adolescenza. Sei malato? Ben ti sta. E quindi adesso cercherà di sbrogliare questi... questo nodo. Sta chattando con lei su Messenger. per chiederle se può andare a farle visita. Non si presenta come il marito di Cassandra ma semplicemente come un amico in comune che avevano tempo fa. Chiaramente non sta chattando come... Ma sei andato anche tu Alex? Oh, santa polenta. Ah sì, giusto, l'ho mandato anche lui. Dream, sveglia! Lui non sta utilizzando il suo vero account sta utilizzando un account falso per appunto chiederle questo appuntamento e vedere se lei accetta. Lo chef della mensa dei poveri sembra piuttosto impegnato e Alexander pensa che apprezzerebbe una mano di aiuto. Deve proporsi? Prova ad aiutare, sì. Alex si diverte molto a tagliare a pezzi le verdure e a parlare con lo chef. Ha anche ricevuto qualche consiglio di cucina. Bravo! E quindi questa tale Elsa gli dice sì, vieni pure. Se proprio vuoi rilacciare i rapporti con Cassandra so come fartela rincontrare. Insomma, non c'è nessun problema. Io abito qua. Vieni pure a trovarmi. Adesso sono libera dal lavoro. E quindi lui adesso va. Ha scoperto dove vive questa Elsa. Ovviamente sempre qua a Windenburg. Bjergsen, non mi ricordo mai dove vivono. Qua. Elsa presso la tenuta fuori in festa. No vabbè, andiamo e magari magari torna a casa anche nel frattempo. Proviamoci perlomeno. Eccolo a casa dei Bjergsen. E pensa, però questi vivono in una bella villettina. Sicuramente meglio di quella tristezza di casa tua, eh. Se devo essere sincera al 100%. Qua abbiamo Bjorn che si sta scatenando. Presentazione amichevole. Questo è il marito tra l'altro già anziano di Sofia. Non sapevo nemmeno che fossero sposati, figuriamoci. Lì c'è Clara. Ma ci sarà anche Elsa. Sì, è qua. Salve, ho parlato con sua figlia. Tramite Simbook. Potrei andare a parlare con lei? Ma sì, certo, in camera sua. Vai pure, figliuolo. Vai pure. Lui pensa che magari sia uno spasimante. Perché i genitori non sanno assolutamente della relazione che c'è tra Elsa e Cassandra. Figuriamoci. E quindi presentazione amichevole. Lascia stare Papino. Ti prego, non è da te. Cioè, no, non farmi queste cose. Leggi un bebé per farlo addormentare. È interessante come lui voglia prendersi cura di suo figlio. Suo figlio per me è importante. Cioè, anche se non lo vedete, off camera lui è un padre presente. Non è come molti di voi pensano, giustamente pensano, che in realtà lui è un padre assente. Tutt'altro. E lei ovviamente quando lo vede le prende un colpo. Lei sa benissimo chi è. Ciao Elsa, ci siamo parlati via Simbook. Ah sì? Eri tu quindi? Ma perché non ti fermi qua a cena? Mi sembri tanto un bravo ragazzo. Sì, certo. Elsa, vorrei parlarti in privato. E lei già capisce che è un po' nei guai. Pensa di essere stata beccata. Invece no. Invece no. però Malcolm ha i suoi mezzi. I suoi metodi. E dove possiamo parlare un po' in privato? Tipo in giardino? Sì, tipo in giardino. Non apparecchi la tavola. Sediti insieme. Lascia stare e vai a sederti fuori con Elsa. pure a te scappa. Che pizza, ragazzi. Lei ovviamente trema. Oh mamma mia, adesso mi suonerà come un tamburo. Ma quindi tu sei Malcolm, giusto? sei il marito di Cassandra, vero? Perché non mi hai detto la verità fin da subito? Beh, sai, lui ovviamente è abituato a mentire. Beh, sai, pensavo che non ti sarebbe piaciuto se il marito della tua amica fosse venuto a casa tua a chiederti informazioni su di lei. Informazioni? e quindi discuti di edinguini logici. E quindi tu conosci da tanto, vero Cassandra? Beh, sì, fin da quando siamo bambine. Ma davvero? E hai visto anche tutti i suoi ragazzi, no? Beh, sì, ma non è che avesse tanti ragazzi. cioè, insomma, lei non non usciva spesso con i ragazzi. Cioè, non ha avuto tanti ragazzi. Ecco, non prima di te. Come lo sta guardando? È proprio la faccia che mi aspetterai da Elsa in questo preciso istante. Quindi lui, pur di carpire un po' di informazioni, tirerà fuori tecniche di fondi anticipazioni false? Ma per favore. Tirerà fuori tecniche che gli hanno insegnato al, tra virgolette, lavoro. Per cui, dai false cattive notizie. No, te lo sto chiedendo perché, sai, ultimamente so che Cassandra mi nasconde qualcosa e lei quasi si strangola. Oh mio Dio, cosa? Del tipo potrebbe avere una relazione. E lei, ah sì? Sì, penso proprio che abbia una relazione. Ne sei proprio sicuro? Cioè, voglio dire, da cosa deriva questa tua convinzione? Ma vedi, lei non è una che va fuori a guardarsi le partite di baseball o di altro e rincasa sempre tardi per cui, secondo me, ha una relazione e ti assicuro che se tu sai qualcosa e non mi dici niente, passerai brutti giorni di pioggia. ah, beh, sì, ci credo, però, guarda, non serve perché, in realtà, che io sappia, lei non si vede con nessuno. Beh, se scopri qualcosa, dimmelo, avvertimi, una lettera, una mail, qualsiasi cosa, però dimmelo, perché, se no, ti assicuro che tu, col tuo bel faccino e la tua bella famigliola, vivrete momenti tristi. beh, questa è una minaccia? Certo che è una minaccia, prendila come tale. Beh, guarda, io non so proprio niente, per cui, è inutile che minacci perché non servirà a nulla. Se lei ha una relazione, io non lo so proprio. Ma lo spero bene perché se va a letto con qualcuno che non sia me, voglio proprio saperlo, hai capito? Ti assicuro che ti svuoto il conto bancario se non mi dici niente e sai qualcosa. Beh, no, ti ripeto, io non so proprio niente. Però a questo punto passa a tecniche un po' più, diciamo, un po' più meschine perché lui sa che l'ex miglior amica, anche se da tanto che non frequenta Cassandra, sa qualcosa. È convinto di questa cosa. E questo perché? Perché ha visto una foto scattata da qualcuno, al festival dell'iriglio che ritrae sullo sfondo lei e Cassandra. L'ha trovata così per caso. Non in atteggiamenti strani, Cassandra non era a fianco a nessun uomo e sì, però il tesoro spaventa. Però ha visto che in realtà Cassandra frequenta ancora questa ragazza. Sì, ho capito. Tra un po' te la fai addosso e ben ti sta. Pure in bagno la segui. No, vabbè, questa non era tanto cattiva. Per cui denigra un altro sim. No, 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 non denigrerebbe mai Cassandra perché non deve far capire che che lui è arrabbiato con lei. urla parole proibite e no. No, resterei sulla malizia. Menti in giro una voce insensata. Ma anche in bagno mi segui? Sì, certo che ti segui in bagno. Perché sai, mi viene da ridere a pensare tu che sei una creatura così indifesa. Venire sepolta in così giovane età solo perché non mi hai dato le informazioni. Sai, è come una grande caccia al tesoro per cui cerca di collaborare con me. Hai capito? E non mi fai paura? Eh sì, l'abbiamo capito che non non le fa paura. Lui tra l'altro vorrebbe risultare sgradito a due sim. Quindi se sei qualcosa dimmelo. Per cui io adesso ti saluto me ne vado a casa perché me la sto facendo sotto o meglio la farò di fronte a te perché così ci imbarazziamo entrambi. Ecco. Dai falla Malcolm che poi torniamo a casa. E lui ha capito che sul volto di Elsa c'era un po' di preoccupazione per cui lui sa che Elsa sa. Lo sa benissimo. E quindi adesso tornerà a casa e continuerà un po' le ricerche. Vuole approfondire un po' quello che sa su questa ragazza. Malcolm torna a casa e va subito a parlare con Cassandra perché questa volta non la passerà liscia. Sa dove trovarla sa che è in camera sua e che sta probabilmente facendo qualcosa al computer e in effetti ha ragione. Cassandra? Lei si Malcolm quante volte ti devo dire che non devi disturbarmi mentre lavoro d'altronde io non vengo a rompere le scatole a te quando lavori. e lui se la prende subito dopo aver sentito questo tono. Perfido insulta sei solo una sporca bugiarda adesso devi dirmi tutta la verità perché io ho scoperto cosa fai quando non sei a casa e lei ti prego Malcolm mi stai facendo venire il mal di testa ma adesso non la passerai liscia smettila di farti i cavoli tuoi e dimmi tutto subito e lei ovviamente già è incavolata per conto suo perché non è un bel momento e oltretutto teme che Malcolm abbia scoperto qualcosa e quindi gli risponde a dovere disputa della carriera allora cosa vuoi sei sempre qua rompermi le scatole mentre lavoro dimmi cosa cavolo vuoi stai zitta perché giuro giuro che ti strangolo giuro che lo faccio un giorno un altro come osi parlarmi in questo modo Malcolm ti prego cosa c'è cosa vuoi della mia vita ho scoperto che tu non è che vai in giro a lavorare no vai a divertirti in giro con gli amici e sai come l'ho scoperto a me cosa vuoi che me ne freghi di come l'hai scoperto beh adesso ti faccio vedere e le mostrerà le foto che ha trovato in giro su simbook per cui mostra le foto no eh condividi le foto condividi foto guarda cosa si trova in giro per la rete vuoi proprio saperlo eh vuoi proprio saperlo guarda te lo mostro senti Malcolm datti una calmata perché non capisco di cosa stai parlando giuro non ti capisco giuro che non ci riesco per cui datti una calmata sono messi entrambi molto bene mi sta facendo venire mal di testa questa si sapessi a me che mal di testa mi sta facendo salire Malcolm sapessi a me non perfido mostra le foto condividi le foto condividi foto no vabbè no Cassandra Cassandra dove pensi di andare beh un leggero languorino penso che farò proprio uno spuntino no adesso torni qua e affrontiamo la cosa e va bene guardate è proprio incavolata nera e va bene che cosa vuoi guarda guarda cosa si trova in giro guarda questa sei tu mi pare no era il festival dell'idiglio con chi con i tuoi amici e chi mi dice che un giorno non ci andrei con l'amante ma qua è l'amante Malcolm come devo fartelo capire che non ho l'amante ah no e cosa mi dici di quel sim che era vicino a voi non è lui il tuo amante ma di che cosa stai parlando ti sei mangiato il cervello Michael sai dice lui sono andato dalla tua amica Elsa tu che cosa hai fatto scusa sei andato da chi dalla tua amica Elsa e sai mi sembra proprio che stia nascondendo qualcosa era molto tesa mentre parlavamo ti prego Malcolm devi andare pure a rompere le scatole gli amici di infanzia eh cosa cavolo stai facendo cosa cavolo pensi di fare penso di scoprirti insulta perché tu sei una traditrice lo so e prima o poi ti beccherò ti coglierò sul fatto per cui stai attenta stai attenta perché sappi che un giorno ti metterò le mani addosso uh cioè e mi pare che risulta sgradito ad the sim di cui uno l'unico finora è la moglie proprio da Malcolm e lei ovviamente ovviamente si incavola urla contro Malcolm ti giuro che se mi metti le mani addosso se anche solo mi sfiori una volta sarà l'ultima cosa che farai in vita tua perché ti farò pezzi così piccoli che nessuno ti riconoscerà e Cassandra non è una che si fa mettere i piedi in testa no no te lo assicuro Cassandra sarà viceversa se giuro che giuro che se ti scopro insieme a qualcuno sarà l'ultima cosa che avrai fatto nella tua vita beh adesso se la pianti di dire cavolate e mi lasci andare a mangiare adesso esci dalla mia camera vai via esci proprio che non ti voglio più vedere sei una stupida lama comunque e sappi che questa cosa non finisce qua perché ti perseguiterò fino a farti perdere la testa si certo va bene adesso togliti dalle scatole Malcolm se non sbaglio il tuo suocero ha preparato qualcosa ah mamma è ancora qua va bene e aggiunga il gruppo e perché non si può prendere una porzione beh vabbè raccogli una porzione nell'inventario e vabbè diciamo che è vero che Cassandra e Malcolm erano due piani più in su ma li hanno sentiti tutti infatti nessuno sta dormendo cioè lui poverino dovrà anche andare a scuola domani mattina ed è qua cioè non si riesce a dormire in questa casa abita pulito e poi dormi e e Martina sta dicendo senti tesoro non è il caso che ci parli tu con i ragazzi perché giuro se io parlo con Malcolm giuro che lo ammazzo per cui parlaci tu tesoro va bene sì non ti preoccupare vado subito a parlare almeno con Cassandra ma è successo qualcosa dice Nancy sì la solita svegliona no figurati non è successo niente dormi e allora lui va a parlare con la figlia oh ci va da solo figurarsi va ad abbracciare la figlia e a cercare di parlarle a capire cosa c'è che non va tu piccolino tu sei furente perché hai sonno sì vai tesoro ma che cosa sta succedendo oh papà sapessi sapessi Malcolm giuro che mi sta facendo uscire dai gangri dove stai andando devi parlare con tua figlia sì grazie Gabriel per queste cose giuro che mi sta facendo oh oh terremoto aiuto aiuto fermati oh allora già in questa casa c'è sempre una scossa ogni giorno se poi vi mettete anche voi a fare il terremoto beh credimi papà è molto peggio di quello che tu pensi ecco eccolo dormi dormi tu piccolino eccolo è lui eh lo so che è lui adesso datti una calmata no vabbè qua non puoi dormire ovvio e dormi che spavento siamo ancora tutti interi sì giornata del rimborso ha avuto successo molto bene specialista degli eventi eh cosa boh va bene e vabbè lei ovviamente si sfoga lamentati dei problemi lo sai che Malcolm mi minaccia che se mi vede con un amante mi fa fuori ma ti pare papà ti pare che io possa avere l'amante davvero davvero dice questo Malcolm beh non ti preoccupare ci parlo io perché non deve osare minacciare mia figlia perché può essere l'ultima cosa che fa in questo mondo guarda giuro lo pagherei anche purché se ne andassi fuori dalla tua vita ah papà sposarlo è stata la cosa peggiore che abbia mai fatto in vita mia non dovevo fidarmi non dovevo fidarmi ma perché sono stata così cocciuta accidenti a me eh tesoro e un po' anche capitare di fare degli sbagli poi io so che tu l'hai fatto solo perché lo voleva tua nonna ma non preoccuparti sia giusto è tutto no? un bel trasloco eventualmente anche per lui non sarebbe male lo ristediamo con tutto il pacchetto a casa di sua madre va bene? ah? ti pare una bella idea? oh papà quanto vorrei che fosse vera questa cosa comunque grazie del consiglio sei sempre il migliore diciamo che non hanno mai avuto un buon rapporto però Gabriel quando Cassandra aveva bisogno veramente di cose importanti Gabriel ci è sempre stato a parte vabbè durante la sua adolescenza in cui diciamo che Cassandra dopo la morte della nonna ha sempre pensato che suo padre fosse un burattino di Ginevra e quindi un po' ce l'aveva con lui cosa state facendo? vabbè sì senti basta chiacchierare abbracciatevi fate quello che dovete tu vai a dormire caro mio perché dormi c'era qua perfino Alessandro oh bravo mettiti a dormire tutti quanti a letto per favore lasciatemi sola con Cassandra ciao Nancy te ne stendendo vero? perché adesso non sopporta nemmeno di vedere Nancy neanche per sogno dove cavolo stai andando a parlare con Missy va bene e quindi sì questa è la situazione ma al colmo ci è andato molto molto vicino io temo veramente che non passerà ancora molto prima che scopra la verità questo è il mio più grande timore in effetti e voi cosa ne pensate? riuscirà mai a sbrogliare la situazione a capire a capire se la moglie è davvero un amante o meno continuerà le sue ricerche secondo voi? fatemi sapere cosa ne pensate ma soprattutto Cassandra per quanto ancora riuscirà a reggere questa situazione perché vedete che anche lei è lì lì per scoppiare eh sì quindi spero che questo episodio nonostante la tragicità vi sia piaciuto se è così mettete mi piace commentate che mi fa sempre molto piacere ditemi la vostra cosa ne pensate di questa situazione iscrivetevi se siete nuovi per continuare a seguire le peripezie di questa famiglia situazioni sempre più ingarbugliate per la nostra Cassandra non ha mai avuto vita facile questa ragazza da quando è diventata adolescente per cui sì iscrivetevi per continuare a seguirmi e in descrizione vi ricordo che trovate sempre tutti i link alle playlist attive per cui alle serie attualmente in corso ma anche quelle passate trovate anche i link ai social e ai canali dei miei amici youtubers vi ringrazio di nuovo tantissimo per la vostra attenzione ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda stupenda giornata ciao a tutti wegg slander wegg slander walka neha fa'clar wegg slander wegg slander leave o'n ipsy zizare wegg slander wegg slander wegg slander wegg slander wegg slander to be slander uh wegg slander wegg slander wegg slander wegg slander